Nei due capoluoghi i cui consigli comunali sono a rischio scioglimento, e cioè Andri e Trani, dopo le tensioni dell'ultima settimana, si vive ora una fase interlocutoria. Giorgine è andato a Roma ufficialmente per il piano di rientro e dovrebbe tornarci per lo stesso motivo lunedì, quindi salvo qualche altro incontro al bar da tenere segretissimo come quello di martedì. Nella giornata di domani stiamo 0 a 0. Le posizioni al momento sono di chiusura reciproca, in pratica Forza Italia, di fatto uscita dalla maggioranza e che non votando il bilancio determinerà la fine anticipata della consigliatura, vorrebbe solo concordare un percorso che sino al 16-18 aprile, data presumibile dell'ultimo consiglio comunale, consenta l'approvazione di alcuni provvedimenti, come quello relativo alla tangenziale e il nuovo regolamento edilizio tipo. In pratica si sta vedendo se la Georginexit deve essere nodial, cioè senza accordo o no. Forza Italia vorrebbe non volassero gli stracci. Giorgino, al contrario, appare deciso a far sì che si evidenzi il più possibile la loro responsabilità nell'aver fatto cadere l'amministrazione di centro-destra di un capoluogo di provincia. Le implicazioni politiche di tale caduta saranno comunque pesanti, segnando presumibilmente un solco che difficilmente si rimarginerà anche in vista delle elezioni comunali e regionali del prossimo anno. È l'unico motivo che tiene accesa la fiammella, sempre più fioca, che ancora illumina la possibilità di una ricomposizione in extremis. Su questo puntano colombe e crocerosine, attualmente allacremente al lavoro, saltellando dall'una all'altra parte. Molto più ottimista è il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, che forte dell'azzeramento della giunta si sta muovendo a tutto campo. Oggi ha convocato una riunione di maggioranza con inutili segretari e più utili capigruppo proprio per discutere del bilancio e far venire fuori ufficialmente chi non intende votarlo. Nel frattempo è al lavoro sia per recuperare almeno qualcuno dei consiglieri dissidenti, sia per coinvolgere forze dell'opposizione che a Trani è tradizionalmente generosa. Presumibilmente la nuova giunta avrà tre volti nuovi che saranno determinati dagli accordi che Bottaro riuscirà a raggiungere. La sensazione è che il golpe preparato da mesi abbia perso molto della sua spinta propulsiva, anche se naturalmente tutto può ancora accadere. Il tentativo dei congiurati di concludere anticipatamente la consigliatura aveva e ha come obiettivo l'impedire a Bottaro, che ha già comunicato la sua intenzione di ricandidarsi, di arrivare alle elezioni con la forza del sindaco uscente. Se il piano A dovesse fallire, già si parla di piano B, cioè mettere in moto meccanismi di rottura anche da parte del PD al cui interno, il sindaco è osseggiato sia dai mennei che dai caraccioliani, i gnavi come è la loro natura, i bocciani. Bottaro deve fare i conti anche con il candidato globale Fabrizio Ferrante, che non è un segreto, aspira alla poltrona di sindaco, sindaco quando andava all'asilo. Uno scenario tutti in evoluzione con una sola certezza. Il centrosinistra, che a Trani è da sempre minoritario, è riuscito a vincere quasi a sua insaputa le ultime amministrative. Ed oggi rappresenta una delle poche città importanti che ancora governa. State certi che si impegnerà allo spasimo, utilizzando tutti i mezzi possibili per far sì che l'anno prossimo questa intollerabile e fastidiosa anomalia sia finalmente eliminata.